Tra di voi ci sono anche esponenti delle forze dell'ordine, dei pompieri e tra l'altro dovrebbero esserne circa un migliaio, Nunzia Alessandra Schillerò, dirigente della Polizia di Stato che è qui con noi! Sentiamola! Grazie. Io sono qui oggi come libera cittadina per esercitare i miei diritti, previsti dalla Costituzione e non rappresento alcun partito. Io sono qui oggi e ho deciso di partecipare a questa manifestazione perché il momento storico che stiamo vivendo è di una gravità senza precedenti e a chi mi dice che manifestare è inutile, io rispondo che manifestare è un po' come denunciare un delitto. A volte puoi scegliere se farlo oppure no, ma se lo fai hai qualche possibilità di uscire dall'ingiustizia. Se non lo fai hai già perso perché ti sei già arreso. E ancora, a chi mi dice che manifestare è inutile, io ricordo che il primo atto che ha compiuto Gandhi per liberare il proprio paese è stato quello di manifestare. Perché Gandhi sapeva che il primo atto di disobbedienza civile è quello di manifestare. E Gandhi stesso ci dice che cosa significa atto di disobbedienza civile. La disobbedienza civile è un dovere sacro quando lo Stato diventa dispotico o corrotto. e il cittadino che scende a fatti con un simile Stato diventa complice di quella corruzione e di quel dispotismo. Grazie. Ieri ho chiamato una mia amica e le ho detto che oggi sarei stata qui. Lei è impazzita, si è armata tantissimo. Mi ha detto, ma tu sei pazza, tu hai un buon lavoro, una carriera assicurata, da domani non ce l'avrai più forse, rischi di perdere tutto. Perché cosa? Tanto il male ha già vinto. Che cosa devi fare? E io gli ho detto no, il male non ha vinto. Perché il male nella storia non ha mai vinto. E questo ce lo ricorda sempre Gandhi. Perché l'amore e la verità hanno sempre trionfato, anche quando sembrava impossibile. E allora lei ha obiettato no, non è vero. Il male ha già vinto. Perché Gesù, tutte le vittime di genocidi, Falcone e Borsellino, hanno fatto la fine che hanno fatto. Una bruttissima fine. E io le ho risposto, o meglio, avrei voluto rispondere e parlarle della morte. Ma poi ho pensato che avrei dovuto darle delle prove piuttosto aleatorie. E allora, visto che sono una donna concreta e pratica, le ho risposto semplicemente no. Il male non ha vinto. Perché se il male avesse vinto, noi oggi non saremmo qui. Perché ci saremmo già estinti. E allora io oggi sono qui per dirvi, anzi per ricordarci che esistono i divergenti. Coloro cioè che la pensano in modo diverso dal pensiero dominante. E non tanto questo. hanno lo stesso diritto di tutti gli altri di esprimere il loro pensiero. Io sono qui, oggi. Libertà, avete ragione. Avete ragione. La Costituzione tutela tutte le minoranze. E ricordiamoci sempre che erano in minoranza anche i primi cristiani, i primi partigiani e tutti coloro che si sono opposti ai regimi dittatoriali erano in minoranza, sì però hanno avuto il coraggio di fare ciò che è giusto non ciò che è più conveniente e anch'io avrei potuto fare ciò che è più conveniente e quindi fare come la maggior parte delle persone farmi rilasciare con estrema facilità questa tessera di discriminazione questo marchio di discriminazione e invece ho scelto di andare contro i miei interessi contro solo l'apparenza perché in realtà quello che oggi è un male per pochi domani sarà un male per tutti perché tutti noi che ci piaccia o no siamo tutti collegati che ci crediamo oppure no e quindi io oggi sono qui per dissentire con il lascia passare verde che è assolutamente incompatibile con la nostra Costituzione perché nessun diritto nessun diritto può essere subordinato al possesso di un certificato di un certificato tra l'altro che non esiste in nessun'altra parte del mondo con questa severità un certificato che non ha basi costituzionali un certificato che non ha alcuna base scientifica e questo ce lo dicono dati reali dati che arrivano dai media d'Israele, dell'Islanda, dell'Australia dati che ci dicono che i vaccinati si ammalano, contagiano e a volte si ammalano anche gravemente come tutti gli altri e questa cosa dovrebbe essere chiara anche in Italia visto che il primo caso è clatante lo abbiamo avuto a luglio di quest'anno quando dei 360 membri dell'equipaggio Amerigo Vespucci la nave militare tutti vaccinati alcuni di loro si sono contagiati e ammalati e allora io oggi sono qui per dire che sì, è vero esiste un virus pericolosissimo e potentissimo che si chiama paura è la paura che genera odio divisioni sociali stupide etichette è la paura e allora noi tutti insieme dobbiamo superare questa paura perché è sempre la paura che disintegra la libertà e che senso ha una vita senza libertà e dunque senza dignità e allora io oggi sono qui anche per ricordarci una cosa fondamentale che noi dobbiamo tornare a informarci sul serio perché il presupposto indispensabile per l'esercizio di qualsiasi diritto e libertà è l'informazione libera per l'informazione che se esistesse nel nostro paese nei media mainstream oggi qua le televisioni dovrebbero riprendere in diretta questa manifestazione e invece no non ci sono sapete perché non ci sono le televisioni? perché non ci sono i media mainstream? perché sono troppo impegnate sono troppo impegnate a trasmettere gli spot governativi perché non dobbiamo mai dimenticarci che il governo ha stanziato moltissimi soldi per tutte quelle radio per tutte quelle televisioni disposte a trasmettere gli spot creati dal governo addirittura gli orari indicati dal governo e allora soltanto in un mondo alla rovescia questa propaganda può essere chiamata informazione e allora io oggi sono qui per ricordare a tutte le forze dell'ordine che noi abbiamo giurato sulla Costituzione e la Costituzione è ancora in vigore e allora come si fa? ah tra l'altro la Costituzione è fonte di diritto preeminente e cioè sovraordinata rispetto a tutte le altre leggi dello Stato e allora come si fa a limitare il diritto al lavoro il diritto alla libertà il diritto alla circolazione il diritto alla vita sociale di un cittadino come si fa? non è possibile perché bisognerebbe cambiare la Costituzione e a chi ci dice che noi forze dell'ordine siamo chiamati a far rispettare le leggi io dico che è assolutamente vero peccato che il Green Pass italiano sia assolutamente illegittimo perché viola l'articolo 36 del decreto 953 dell'Unione Europea istitutivo del Green Pass e quindi è il Green Pass italiano che è illegittimo perché le norme europee i regolamenti europei sono fonti di diritto sovraordinato rispetto alle fonti del diritto italiano e allora uniamoci tutti insieme per chiedere adesso la revoca di questa tessera verde e forse il motivo principale per cui io sono qui è per chiedere a tutti voi di unirci perché soltanto se noi ci uniamo soltanto se noi uniamo le nostre energie possiamo illuminare una via per un mondo migliore e anche coloro che sono rimasti indietro potranno scorgere quella luce e raggiungerci per concludere io vorrei fare una domanda ai nostri governanti se mi vogliono ascoltare vorrei sapere cosa accadrà il 15 ottobre quando loro saranno impegnati a aprire la porta dell'inferno mi riferisco alla nota nostra che si terrà nel scuderio del cuorinale cosa accadrà se molti milioni di italiani dovessero decidere di rimanere a casa e di dire no alla tessera verde che cosa farete? che cosa farà l'Italia? io vi ringrazio davvero perché sono molto emozionata vi ringrazio per avermi ascoltato e voglio lasciarvi con una domanda che cosa temono gli onesti? gente! niente! niente! ricordavocevo sempre grazie grazie a nome di tutti noi grazie per il tuo coraggio Nunzia grazie